FIrma, filmali! non c'è qua niente vedi? seconda è gas qua per forza perché se no out ma questa non è proprio così facile se la conosci dopo sai come andare è un conto poi ogni volta la muove perché viene giù l'acqua la lava via tutta sgarlone uno sgarlone con quella moto lì sgarlone c'è uno sgarlone se non la prendi veloce da sotto non arrivi proprio ci ho ripensato proprio da birra no? oh e mo come cazzo lo accendo? vai Claudio che cazzo ci fate tutti qua? mettiamo la moto mettiamo la moto dai mica il parcheggio di Niguarda qua fuori dalle balle via guarda scherzato non viene più chi? mettiamo la moto qui giochiamo vale devi andare cosa c'è lì? tu però secamente fisicamente ti ammazzano ti ammazzano andiamo non ascoltare niente devi aprire e basta qua fai la curva continua senza dargli colpi e basta fai la larga eh bravo bravo sempre un po' più veloce beh dai chiodi e vai perché si è stato troppo lento non c'è pure stato no lui viene lui viene su di qua tanto è stato troppo lento ma è stato troppo lento